Buongiorno, il campiello mi ha scritto di fare un video simpatico, però io non sono molto simpatico, quindi vedremo cosa si può fare. Mi chiamo Francesco Carlo Pirro, Francesco Carlo tutto attaccato perché all'anagrafe hanno sbagliato, sono uno scrittore e probabilmente sarò l'ultimo degli scrittori perché dopo di me la letteratura italiana morirà di infarto.